Il 10 luglio in Piancavallo si correranno i campionati italiani master di corsa in montagna. Sono venuto a trovare il capo dell'organizzazione responsabile, Matteo Redolfi, atleta, che dopo 4 anni prende ancora questi campionati italiani, se li porta in Piancavallo e farà conoscere un po' il Piancavallo a tantissimi atleti. Ci vuoi spiegare? Hai un paio di minuti per raccontarci quello che avverrà il 10 luglio. Il 10 luglio, tutta la mattina, circa 600 atleti provenienti da 12 regioni d'Italia, ma confidiamo che aumentano nel frattempo, parteciperanno a un campionato italiano che già nel 2007 abbiamo ospitato. E' con piacere che la società organizzatrice, ma anche membro della Federazione di Atletica Leggera, e riavviamo questo campionato. E' una manifestazione che sicuramente entrerà ancora negli annali dell'atletica leggera, perché la fiducia che abbiamo avuto è notevole. Mi piace ricordare, anche per gli amanti della Corsa in montagna, che sarà un giro relativamente breve, dove anche gli spettatori vedranno 1300 metri di circuito da fermi, e quindi sicuramente lo spettacolo non sarà indifferente. Vedranno gli atleti girare più volte, a contatto con la fatica? Certo, vedranno e collaboreranno in parte anche a dare in modo che chi farà la gara più lunga da 12 km avrà nei migliori dei modi. Non pioverà sicuramente, perché abbiamo un speciale gadget tecnico, un ombrello, visto che piancavallo è noto soprattutto per la molta acqua. Per i prodotti tipici? Sì, ci piacciono soprattutto i prodotti tipici, abbiamo diverse situazioni come il miele, il formaggio di malga, tutte cose che sicuramente apprezzeranno. Promozione turistica a 360 gradi, con una mappa di quanto c'è nella Monte Cavallo, e quindi patrocinata dalla regione Friuli e dal Veneto, ma anche un racconto di quello che è il Friuli Venezia Giulia e quello che è da vedere nel Friuli Venezia Giulia, considerando sempre i numerosi partecipanti provenienti da fuori regione. Saranno circa 700-800 atleti che arriveranno in piancavallo, io rivolgo l'invito anche agli appassionati dello sport, della fatica, della corsa solitaria, insomma, che vengano in piancavallo perché quella giornata lì sarà una giornata veramente sportiva. Bene, noi ti salutiamo, la presentazione l'abbiamo fatta qui alla Madonna del Santuario e sicuramente ti porterà bene come quattro anni fa. Sì, mi piace raccontare il santuario, ci troviamo tra l'altro in un percorso che 365 giorni all'anno l'Atletica Aviano ha predisposto, è un percorso di 4, 7, 10 e 13 chilometri, dove chiunque, dagli atleti a chi gli piace semplicemente camminare, l'importante è fare sport, qui ci si iscrive e si partecipa lungo questi sentieri molto belli a quattro passi dalla pianura. Bene, l'appuntamento 10 luglio in piancavallo, campionato italiano, corsa in montagna, categoria Master.